Oh! Oh! Offro io! No, offro io! No, offro io! No, offro io! Raga, offro io! Vabbè! Vabbè, tre caffè, tanto io non ne prendo, già sono abbastanza nervoso. Vabbè, non farei così tanto una tainata al guino. Esseremo qua. C'è crisi, c'è. Hai ragione, non risso solo caffè, tu non si può campare più, non si può campare più! No, c'è crisi, però che ti ho regalato io a te la moglie, poi c'è la moglie per camminare. Ehi, sei andato a pure San Valentino. Ecco, la mia zitta voleva regalata niente, ma posso venire? Ci accattava quando inizia la bombola. Ma chi deve dire che mi posso accattare l'olietto? E per morire i ruomini? Mi ha spattato la cuccia con il cane! Ma chi deve dire che mi posso accattare la cane e poi spinno ogni tanto, mi prendiamo la seconda? Allora, ma chi deve dire che si rompe la cuccia con il cane e poi sentire freddo? Vuoi dire che mi ha fatto la cuccia con il buo? Ma io mi sei riuscita! Ah, chi? In chiama mai nata! Eh, la verità, la crisi è forza, la crisi, la crisi è forza! Hai ragione, a Sanremo, ora c'è Sanremo, il presentatore prende un milione di euro! No, e sape tutte le cose! E noi stiamo puzzando la faccia! E sape tutte le cose! Bravo, bravo! Perché chi deve dire a me, se la facciamo finire i giga, ieri, e poi sapere i cazzi lavori ci ha pagato la misura, vuoi dire? Poteva trasferire nei Facebook! Ma chi deve dire che a caso noi potremmo mettere la televisura e per passare un tempo con la mia mogliere siamo arrivati a Sirice Finchie! Sirice! Sirice! Ma chi deve dire che a me posso accattare il suo e fare il picco di animo a perdere il fuoco di vani? Sì! Minchietta la mente tu! Ma chi deve dire che la mia mogliere si voleva fare un viaggio con l'aereo? Un nubo d'amo per i miei altri! E poi morì a farla volare! La paghiaccare roba ai c***o! Ma chi mi si dice? Vai che? Minchiamala è nata! Va bene, va bene, va bene! Si comincia con un po' di eleganza! Vai alla grande! L'eleganza, bravo! La nostra modella! Che eleganza! Che classe! Chiamalle pota, acco! Non ho capito! Sono bella! Bella, bella! Le modelle che parlano piano! Sono bella! È bella! Nel campo della moda si lavora con persone di diverse etnie Sì! Etnie lo so dire! Certo! Scusi! Ognuna di loro mi ha insegnato qualcosa! Sì! E io per ricambiare da brava terrona ho insegnato loro un metodo di comunicazione efficace! E qual'è questo metodo? Abbannata roba e cose! L'eleganza! L'eleganza! Grazie signorina! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Che lunga l'ha buttata! Dai, dai, dai! Che lunga! Che non schiuma! Dolce alla Matteo Renzi di chi era? Com'è il dolce alla Matteo Renzi? I chiacchiere! Che faccio? No! Guarda! Non ne vogliamo! Guarda! Allora, sai che faccio? Che faccio? Ti faccio tutte! E ci faccio una nonna! Grande! No al consumismo! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Perché un sacco di persone! E' la seconda! E' la seconda! Ma... Ma... Ma io il destino oggetto non ti ho scritto! Perché secondo me il mio l'aveva scritto un arabo! No! Ho già capito un gatto! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Ah, guarda che giro carino che fa! E' bravo! Il giro della città! Attention please! Looky me! Looky me! Oggi visiteremo questo bellissimo sito archeologico greco! Si! La Grecia ebbe un ruolo fondamentale all'interno del Mediterraneo soprattutto per la sua posizione geografica! A est Albania, a ovest Tramontonia! Ci stiamo per il disagio! Ma un disagio bellissimo! Da questa latata la rappresentazione di alcuni degli dei più importanti dell'Olimpo durante una cena! Da sinistra verso destra, a pollo, a pasta, a cagno, a patta! Ci scusiamo per il disagio! Da questa... Da questa latata un bellissimo anfiteatro greco che inizialmente fu progettato per essere un tempio, ma i lavori andavano a rilento, così lei arrivò, bloccò i lavori e disse basta! Tempi ho scaduto! Ci scusiamo per il disagio! Attention please! Lucky me! Lucky me! A presto ragazzi! Questo un anno mi spunta con Piero Dance, poi mi fa la guida ragazzi, un miracolo solo lo posso Lo so! Ma sempre non mi avete fatto un mucca! È un modo di dire! È un modo di dire! È un modo di dire! Avete te sapete quale è? Lo so! Non c'è più il respiro! Lo sanno tutti! Non c'è più il rispetto! Mi è successo un giorno, ho fatto una cosa e mi ne pentevo quanto capita un TX. Parecchio. Che ha fatto? Era senza telefono, mi va a prendere un telefono e mi cucino chi è cinese. Qual? Samsung. Sì. A parte che non è cinese, allora va bene. È coreano, sai. Ma all'inizio è troppo bello, mi scrive su Facebook e mi faceva una pagina, Gesù Cristo è official. Io ero tutto miso, mi arrivano e non mi le ho dei notici. Certo, è normale. Gesù confido in te, sei miei amici con di vita, catena e catenelle, scoppiò l'infino. Ma la cosa che mi hai fatto incavolare di più, sai cos'è? Qual è? Che a me fece un gruppo in Whatsapp, 12 a posto. E come andava? Dopo 5 minuti mi arriva una notifica. Che notifica? Giuda ha abbandonato il gruppo. Non si c'è poco mai. La verità, sapete qual è? Qual è? Non c'è più respiro. Io le volevo parlare perché praticamente vorrei confessarvi. Va bene, andiamo avanti. Certo. Messaggio sociale. No, messaggio sociale. Se decidete di prendere un animale, che sia un cane, che sia un gatto, che sia un criceto, dovete prendervene cura. Gli animali non sono oggetti. Gli animali non meritano di essere maltrattati. Tutti gli esseri viventi meritano il rispetto. Bravo, bravo. Ragiono. Questo si è un messaggio sociale. C'è mia moglie che mi chiama, posso? E va bene che mi chiamiamo. Amore dimmi. I palumi ne cagate a te con un balcone. Ti hai preparato la scoppia, stasera si mangia pollo. Ma come? Ma come? Basta. E va bene. Adesso una coppia innamoratissima. Noi, Palermo, città d'arte. Una coppia talentuosa che canterà l'amore in lirica. Signore e signori, i Badaboom! Amore, perché per San Valentino non facciamo un bel viaggio? Ce ne andiamo a Parigi, la città degli innamorati. Anzi no, andiamo a Barcellona. Io ho sempre desiderato che... Anno caperai che siamo senza soldi e viaggio ne può fare. Perché? S'appara la luce che sta fitto pure umana a cattarate. Mi ammi, come fai? Non pensi mai a me, a me. Oh, puvo capire. Che pu' fare ma doccia? E aspettare che piove mi devo indebitare. Puro buon caffè. E come sei esagerato. Io con te sbroccherò. Ma c'è sbrocchi tu. Sono le po' dove sbrocca. Hai il braccio corto. Non è vero. Poi però problemi tu non te ne fai quando scommetti a stare. Con te io partirò. Sono navi per mari. Se è cupedaro. Tu sei un taccagno e lo sai. Soldi non ne è usciti mai. Con te io sbielerò. E una sangue soca. E io morirò. Di chi ho mai un ciappazocchio. Ma va pancò.